Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. Ad un venerdì tutto sommato stabile seguirà un nuovo peggioramento che ci interesserà nel corso del weekend. Venerdì 3. In genere poco nuvoloso, venti deboli di direzione variabile e mari tutti poco mossi, temperature stazionarie nelle medie del periodo. Condizioni di instabilità per sabato 4 settembre con piogge e rovesci a più ripresi a tratti anche dal carattere temporalesco. I fenomeni potrebbero risultare maggiormente diffusi al mattino. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!